Siamo in compagnia negli studi di TV City dell'Onorevole Luigi Gallo, finanziamenti in arrivo per i siti UNESCO, per il Parco Nazionale del Vesuvio e anche per il Comune di Torre del Greco. Sì, il Comune di Torre del Greco ricade nel distretto sito UNESCO grazie al Miglio d'Oro e avrà la possibilità di presentare progetti contro i cambiamenti climatici, progetti per la mobilità elettrica e sostenibile e progetti per l'energia sostenibile. Quindi ci sono 73 milioni in tutta Italia su questi siti e chiediamo all'amministrazione di fare la propria parte per accogliere questa opportunità di trasformazione importante in questo momento, visto che tanti fondi europei, parliamo di 209 miliardi, oltre a quelli stanziati da questo governo, riguarderanno quest'asse importante sull'ambiente. A partire da quando si potranno presentare i progetti e poi quali sono i tempi previsti per la realizzazione? Il bando è uscito a febbraio, la prima presentazione dei progetti sarà per marzo, quindi naturalmente come sempre il Movimento 5 Stelle dà piena disponibilità a collaborare nella progettualità, nel costruire dei percorsi fruttuosi per l'economia di Torre del Greco e l'amministrazione non può perdere l'opportunità come ha fatto per esempio con il centro polisportivo, il famoso centro polisportivo cittadino che non è mai partito. Questa amministrazione comunale continua a perdere opportunità? Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma è così. Faccio un esempio, conosciamo benissimo il nostro sito storico di Villa Sora, e dal 2018 che la sovrintendenza è pronta a investire risorse su questo sito e per restaurarlo e per riqualificarlo e valorizzarlo, anche creando delle imprese, ha chiesto al Comune solo di realizzare un progetto per l'accesso al sito, attraverso un progetto di accesso a una strada che porta al sito, ci sono già dei progetti che erano nei cassetti del Comune, ma ad oggi la sovrintendenza non ha avuto nessun progetto dal Comune. Questo ritarda naturalmente il rilancio economico della città. Parlavamo di finanziamenti in arrivo anche per il Parco Nazionale del Vesuvio. Sì, c'è una quota ristori speciali per le micro e le piccole imprese del territorio, le guide turistiche e le guide escursionistiche, perché il Ministro Costa ha creato la zona economica ambientale per i parchi nazionali. Questa è un'altra delle opportunità che la nostra città ha, però deve scegliere una strada, la strada della rivoluzione della green economy, la strada del turismo e la strada della cultura. Sono gli assi fondamentali su cui si può disegnare lo sviluppo di questa città. Grande attenzione anche per il sito in cui ci troviamo, quello dei Molini Meridionali Marzoli. C'è una progettualità in corso? Sì, abbiamo sventato anni fa la privatizzazione di quest'area. Oggi c'è una vocazione educativa e culturale, perché si dà a un istituto nautico, che è un indirizzo storico per il nostro territorio, una nuova casa, la casa degli ex Molini Marzoli. Abbiamo avuto interlocuzioni con la sovrintendenza, abbiamo avuto interlocuzioni con la città metropolitana. Il sindaco, in questo caso, l'opportunità è stata presa dall'Aggiunta, quindi noi quando si fanno le cose buone lo diciamo, è stata presa dall'Aggiunta e speriamo che adesso tutti gli atti amministrativi, dal PUC al DUC, verranno realizzati e portati a compimento. A fronte dunque di queste novità, di questi nuovi finanziamenti, sarà fondamentale comunque la sinergia? Io tranquillamente chiamo il sindaco, lo sento quando ci sono dei progetti per la città e lo stimolo a intervenire. Naturalmente ci vuole anche una tensione politica, lo dico chiaramente a tutti i cittadini, bisogna fare in modo che anche i cittadini capiscano che le opportunità sono per l'economia, le opportunità sono per il lavoro sul territorio, le opportunità che tutti dobbiamo chiedere alla politica. Questo territorio dunque può riscattarsi? Può riscattarsi, è il momento di riscattarsi perché ha tante opportunità. Cadiamo nel grande progetto Sarno e si possono riqualificare i famosi alvei che attraversano la città e portano dei triti e spazzature in spiaggia e a mare. Cadiamo nel Parco Nazionale del Vesuvio, è già raccontato le opportunità che possiamo raccogliere, cadiamo nel grande progetto Pompei e nel Miglio d'Oreo, dove avremo opportunità economiche da punto di vista turistico e culturale. Basta esserci. L'ultima volta che si è fatto un incontro con i comuni e il ministro Franceschini, il nostro sindaco e nessun delegato c'era al tavolo.